Quella battaglia navale che nel 241 a.C. segnò la fine della prima guerra punica fra romani e cartaginesi continua a regalare reperti di grandissimo valore, tesori archeologici che il mare e il scenario della battaglia dell'Egadi continua a restituire. La campagna di ricerche di agosto ha infatti consentito di recuperare un altro rostro in bronzo che si trovava su un fondale a circa 80 metri. Il reperto è stato recuperato dai subacquei altofondalisti della Society for Documentation of Sub-Hermaged con l'osilio della nave oceanografica da ricerca Hercules che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l'individuazione e il ricopero di numerosi reperti riguardanti l'importante evento storico del III secolo a.C. Il rostro è stato trasferito nel laboratorio di primo intervento all'ex stabilimento Florio di Favignana ed è già al vaio degli archeologi della sovrintendenza del mare della regione. Le sue caratteristiche sono simili a quelle degli altri già recuperati nelle precedenti campagne di ricerca. Nella parte anteriore una decorazione a rilievo che raffigura un elmo con tre piume nella parte superiore, mentre le numerose concrezioni marine non consentono ancora di verificare la presenza di eventuali iscrizioni. Le attività di ricerca nel tratto di mare tra Levas e Favignana sono condotte da circa 20 anni da un team formato dalla sovrintendenza del mare, dalla statunitense RPM Nautical Foundation. Con quest'ultimo rostro salgono a 27 quelli ritrovati a partire dai primi anni 2000. Micidiali armi di distruzione che applicati sulla prua delle navi da guerra consentivano lo speronamento delle imbarcazioni nemiche e il conseguente affondamento. Negli ultimi vent'anni sono stati individuati anche 30 elmi appartenenti a soldati romani, due spade, alcune monete e un considerevole numero di anfore. La battaglia di Lega divenne combattuta a nord-ovest dell'isola di Levaso nella 241 a.C. e segnò la fine della prima guerra punica. Questo è il rostro numero 23, pesa 170 kg, di costruzione romana con la decorazione dell'elmo Montefortino. È stato individuato un paio di anni fa, quindi sapevamo già che era sul fondo del mare e però l'abbiamo lasciato intenzionalmente sul fondo del mare in questi anni perché in sua prossimità abbiamo trovato un numero di altri reperti che fa pensare a che ci sia la traccia di una nave. L'indagine ancora non è completata, non sappiamo neanche se è una nave ancora, è sicuramente una concentrazione di reperti che può essere stata rovesciata da una nave oppure, come tendiamo a pensare, ma la prudenza è d'obbligo, è proprio una nave che è fondata durante la battaglia, che imbarcava un certo numero di guerrieri, almeno una quindicina, giudicata dagli elmi che abbiamo, oltre ai circa 200 rematori. Questi erano fanti in marina sul ponte e abbiamo trovato un gran numero di monete a bordo. La cosa curiosa è che stiamo trovando sia cartaginesi, che romane, che siracusane, che da varie altre parti del Mediterraneo. Grazie.